sera allora faccio questo video per un avvertimento diciamo oggi sarebbe dovuto uscire un altro video ma non ho avuto il tempo di farlo diciamo che con lo sprint finale della scuola tra maggio e giugno non ho avuto il tempo di fare nulla registrare montare nulla quindi come avete visto ho caricato un sacco di video su braunrico questo perché erano gli unici video pronti che avevo e per andare a ripararmi ho caricato tutti quelli che avevo quindi ora non ne ho più nemmeno di braunrico lo sono messo proprio a posto quando avete questo video sarà l'ultimo giorno di scuola ma sto registrando molto prima se mi date due settimane torno a metà giugno in queste due settimane registro tutto il registrabile e vi porto contenuti fino a metà agosto guardate perché registrare un video il giorno prima dell'uscita non è il massimo con tutto il montaggio caricamento e tutte cose ho una lista di contenuti che dovrei portare un sacco di idee un sacco di video un sacco di cose che non posso registrare materialmente adesso in queste due settimane proverò a registrare qualunque cosa e poi inizierò a caricarvelo tra due settimane quindi spero che capiate questa piccola pausa che mi prendo e niente ci vediamo tra due settimane torno a saltellare ciao